Mi accontento della sesta vittoria contro la sinistra. Poca roba, eh? Poca roba. Friuli, Molise, Trento, Bolzano, Abruzzo e Sardegna. Sei giunte di centrosinistra, sei giunte con la Lega. Allora ragione per gli scuoli, la Lega non può fare meno il Corso Italia. Andiamo avanti. Oggi c'è da festeggiare il voto dei Sardi. C'è da festeggiare una pagina nuova per la Sardegna. Poi tutte le altre analisi politiche. Io sono andato a letto con i vostri dottissimi exit poll e il testa a testa. Ho visto Agorà che parlava di testa a testa, ho letto il Corriere che parlava di testa a testa. Sì, perfetto, un testa a testa di 15 punti. Chapeau. Grazie. Bravi, un testa a testa emozionante. Si chiamano exit poll perché non so il dato reale. No, lo so. Il testa a testa è finito tanto a poco. Io commento la vita reale. La vita reale mi dice che governiamo la Sardegna, vedremo di farlo bene. Meglio rispetto alla sinistra che è stata mandata a casa. A livello nazionale per me non cambia nulla. Riesco a sentire una cosa alla volta.